Un nuovo progetto di inclusione sociale, quello promosso dal Comune di Monte Silvano in collaborazione con il servizio SIGAD della ASL di Pescara che prevede un percorso di formazione per giovani adulti con disabilità neuropsichica includendo anche quelle persone affette da autismo. L'obiettivo è quello di orientare ad un'effettiva inclusione nel mondo lavorativo. Un appello che l'assessore alle politiche sociali Sandra Santa Venere fa soprattutto agli enti ospitanti per accogliere questi ragazzi. Avremo la possibilità di far fare ai ragazzi che grazie agli operatori del SIGAD un equip altamente qualificata hanno la certificazione perché appunto hanno seguito un percorso di evidenza delle trasparenze diciamo delle loro competenze e potranno accedere a dei tirocini. Questi tirocini verranno fatti all'interno appunto di enti o aziende ospitanti che potranno poi accogliere in maniera appunto definitiva i ragazzi giovani insomma che hanno fatto questo percorso nel mondo del lavoro. La SIGAD ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere degli adolescenti residenti nel territorio dell'ASL di Pescara. Un'equip multiprofessionale e multidisciplinare che offre orientamento ed accompagnamento all'inclusione e supporto alle persone con disabilità. Cioè noi dobbiamo cercare davvero di accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro e quindi fare incontrare le loro competenze, la loro capacità con l'offerta di lavoro e quindi anche fare in modo che ci sia una predisposizione, una sensibilizzazione da parte delle aziende proprio ad accogliere i ragazzi e però mettere a frutto quelle che sono le loro competenze.